La tennista azzurra Lucia Bronzetti, unica italiana rimasta in tabellone, perde in 2-7 ma esce a testa alta contro la giocatrice più in forma del circuito. La romena Elena Gabriela Ruse in serie positiva da 12 partite dalle qualificazioni del WTA 250 di Hamburgo. Passando per le qualificazioni del country non si è più fermata. Il break ottenuto nel terzo gioco del primo set si è rivelato decisivo per la Ruse che ha poi chiuso 6-4. Nel secondo set la Bronzetti si è trovata a condurre 3-1 prima di subire tre game di fila dalla romena che sul 5 pari ha ottenuto un nuovo break andando a chiudere al servizio sul 7-5. Il bilancio della Bronzetti è comunque positivo, ha centrato per la seconda settimana consecutiva i quarti in un torneo WTA ed ha ulteriormente migliorato la propria classifica, sarà 174 da lunedì. La Ruse affronterà in semifinale sul centrale la francese Oshando Den 120, testa di serie numero 6 che ha avuto la meglio in 3-7 in 2 ore e 29 minuti sulla romena. Jacqueline Christian 159 per 6-7, 6-3, 6-4. Nella parte alta del tabellone è stata vincente, divertente ed incerta fino all'ultimo la partita tra la testa di serie numero 4, Shuai Zhang numero 57, e la serba Olga Danilovic 149 ed il match tra la più anziana, la cinese a 32 anni, e la più giovane tennista Danilovic 20 rimasta in tabellone si è trasformato in una maratona in cui la figlia dell'ex grande cestista Predrag ha fatto leva su servizio e risposta per provare a guadagnarsi la prima semifinale della stagione. Armi che non sono bastate contro la Zhang che ha alzato il livello del proprio gioco nei momenti decisivi del match, toccando l'apice nel tie-break del 3-7 in cui la cinese ha messo all'incasso la maggiore esperienza a questo livello. Per la Zhang, entrata in tabellone grazie ad una wild card, la vittoria è arrivata dopo 2 ore e 36 minuti di gioco con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6. La Zhang si giocherà la finale del singolare contro l'ameritana Daniel Collins che ha superato l'ex compagna di college, l'australiana Astra Sharma.